La filovia Montesilvano Pescara diventa finalmente realtà in modo definitivo con tutte le autorizzazioni necessarie. Lo conferma al TG8 il presidente di TUA Gianfranco Giuliante annunciando che i lavori inizieranno tra aprile e maggio e riguarderanno gli ampliamenti dei marciapiedi, la rimozione degli ostacoli, la messa a norma di rampe, pavimentazione stradale sulla parte del comune di Pescara con materiale fibro rinforzato, abbattimento di tutte le banchine di fermata. La conclusione degli interventi è prevista entro il 2021, mentre l'arrivo dei nuovi veicoli ecologici all'inizio dei primi giorni del 2022. Dopo oltre 25 anni dal finanziamento Cipe si conclude un iter che consentirà alle due città, ma anche all'intera area metropolitana, di avere un trasporto ecologico e a basso impatto ambientale. Bisogna dire che finalmente siamo giunti alla fine di un percorso che è stato lunghissimo, oltre 25 anni dal primo finanziamento di 30 milioni per innovare un percorso che allora si considerava già necessario per alleggerire il traffico di Pescara. Dopo 25 anni è arrivata in queste ore l'autorizzazione del Ministero definitiva per poter cominciare i lavori, lavori che fanno riferimento alla terza variante che è stata approvata e con la quale andremo a migliorare, sono le cosiddette migliorie, per facilitare tutta una serie di situazioni. Tutto quanto questo è stato il frutto di un lavoro sinergico fatto dalla tua con il Ministero, con la Regione Abruzzo, con il Comune di Pescara e il Comune di Montesilvano. Per la prima volta, forse, nella storia italiana, dopo un finanziamento che è iniziato ed è stato previsto 30 anni fa, i lavori di miglioria, quindi l'ultimo step, verrà fatto con le economie, quindi non ci saranno aumenti di costo rispetto alla previsione iniziale, anzi crediamo che ci sia addirittura qualche risparmio successivo per qualche imprevisto possibile. Da Montesilvano fino a Piazza della Repubblica a Pescara, ma si potrà arrivare anche fino a Viale Pindaro, quindi la zona del campus universitario, con quali mezzi? Sempre con lo stesso mezzo che una volta arrivato a Piazza della Repubblica potrà poi essere utilizzato al di fuori delle filovie perché ha batterie che gli consentiranno l'ulteriore prosecuzione fino al Tribunale e diventerà sinergico rispetto al piano che il Comune di Pescara sta facendo per facilitare il traffico.